Un classico di Dario Foy, Franca Rame, sul palco del Teatro Virginian di Arezzo. Coppia aperta, quasi spalancata, è il titolo dello spettacolo con le musiche dal vivo di Michele Farragni e la regia di Silvia Giulia Mendola. Non fare fesserie. Antonia, esci di lì. Il titolo per eccellenza, estremamente popolare, che schiaccia veramente un occhio al pubblico, tra l'altro nella nostra rappresentazione con la regia di Silvia Giulia Mendola, c'è veramente molta interazione col pubblico, ci sono delle pause volute, dove la ricerca del dialogo col pubblico è molto importante per noi. Antonio, non fare pazzie, esci di lì, va bene, va bene, va bene, sono un bastardo, ma ti giuro, è l'ultima volta che ti metto in una situazione del genere. No, ma cosa vuoi che me ne importi? Di te, dalle tue amanti, dalle tue donne, stronze! Vabbè, scusa, se erano intelligenti, si sarebbero andate meglio? Il testo è stato scritto negli anni Ottanta, ma ancora oggi è più che mai attuale. La commedia ancora oggi fa infatti riflettere, ridendo con intelligenza, sul concetto di amore e fedeltà. Mamma, basta! Voi due non potete andare avanti così, eh, finirà che mi ammazzerete. Dovete trovare una soluzione, evitate qualcosa di diverso. Allora, innanzitutto, tu non vuoi continuare a vivere con l'appendice del papbo, eh, devi trovarti una tua autonomia. Il papà va a donne, tu non ti ridica, ma perché giusto, stano, umano, ti trovi un altro uomo. No, perché certe cose non cambiano mai, no? Come gli archetipi che ci sono dall'antica Grecia e quindi anche il tradimento è sempre un argomento che, ahimè o non ahimè, chissà. Poi adesso il gender fluid forse non la penserebbe così, adesso ci sono tante cose nuove oltre alla coppia aperta, però, insomma, è ancora moderno e immortale, assolutamente. Senti, ma scusa la domanda indiscreta. Cioè, avete già stati insieme, nel senso, voglio dire, avete già... Cosa? No, dico, avete già... Cosa? Hai capito? No, non ho capito. Cosa? Avete già fatto l'amore? E pronunciando questa domanda, lui, il marito spregiudicato e sciolto, vai, vai, facciamo la coppia aperta, è andato di nuovo in apnea e... Pro, pro, pro... Questa è tocca, non c'è bisogno!